Il diabete è una malattia molto subdola, è una malattia che opera senza dare grossi problemi fisici perlomeno chi ha le prime manifestazioni, però opera sotto sotto, per cui svolgere un'attività fisica costante è molto molto importante perché la previene, aiuta a combatterla e aiuta naturalmente a controllarla perché il miglior controllo se lo fa il diabetico stesso. Questa attività vuole sensibilizzare tutti i giovani soprattutto, ma tutti coloro che sono in condizione di svolgere un'attività sportiva. Ci sarà questa giornata il 16 di luglio dove ci sono appunto degli atleti che fanno parte di questa associazione che si chiama ANIAD, Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici, correggetemi se sbaglio, in cui faranno una manifestazione appunto per dimostrare di cosa possono essere capaci i malati di diabete. Quindi tutto qui.